Si intitola Acqua Alta, I Tied, la mostra dell'artista piemontese Fabio Viale, inaugurata ieri alla Galleria Poggiari di Firenze che proseguirà fino al 16 maggio. L'esposizione, a ingresso libero, propone due diverse installazioni, una per la sede della Galleria di Via della Scala, che arriva direttamente da Venezia, e l'altra, monumentale, allestita nello spazio, in Via Benedetta, dove sono collocate 18 tonnellate di marmo a formare una ripida cascata di pietrisco. Gli spazi di Via della Scala sono occupati dal gruppo di sculture che l'artista ha realizzato appositamente per il padiglione Venezia della 58esima biennale. Si tratta di una dozzina di monoliti in pietra, che replicano a misura reale quei pali in legno di rovere o di castagno, alti 3 metri e oltre, che affiorano nella laguna di Venezia. Questi oggetti sono denominati bricole e servono da segnali per la navigazione. Il progetto, per la sede di Via Benedetta, intitolato Root, nasce dalla passione che Viale nutre nei confronti delle cave, con l'obiettivo di usare il ravaneto come utensile di scultura. Grazie!